La questione dell'esistenza dei demoni è complessa e varia notevolmente a seconda del contesto culturale, religioso e filosofico. Prospettive religiose e culturali Cristianesimo, molte denominazioni cristiane, specialmente il cattolicesimo e alcune forme di protestantismo, credono nei demoni come entità spirituali malvagie che si oppongono a Dio e agli esseri umani. Gli esorcismi sono pratiche ancora in uso per liberare le persone presumibilmente possedute. Islam, l'Islam riconosce i demoni Jinn come creature invisibili che possono essere sia buone che cattive. Anche qui, esistono rituali per proteggersi da loro. Induismo e Buddismo, in queste religioni, esistono varie entità spirituali che possono influenzare negativamente gli esseri umani, sebbene la concezione di «demonio» differisca notevolmente. Culture tradizionali Molte culture indigene hanno credenze in spiriti o entità malvagie che possono causare malattie o disastri. Prospettiva scientifica Psicologia e psichiatria La scienza moderna tende a spiegare fenomeni che una volta erano attribuiti ai demoni in termini di condizioni psicologiche o neurologiche. Disturbi mentali come la schizofrenia o l'epilessia, che possono causare comportamenti e sensazioni che sembrano inspiegabili, sono ora trattati con terapie e farmaci. Scetticismo scientifico La comunità scientifica richiede prove empiriche per accettare l'esistenza di fenomeni. Fino ad ora, non esistono evidenze scientifiche che dimostrino l'esistenza di demoni o altre entità soprannaturali. Approcci filosofici e scettici Naturalismo Dal punto di vista naturalistico, ogni fenomeno ha una spiegazione naturale e non soprannaturale. Questo approccio rifiuta l'esistenza dei demoni in quanto mancano prove verificabili. Scetticismo filosofico I filosofi scettici sostengono che le credenze nei demoni sono spesso il risultato di ignoranza, paura o spiegazioni errate di fenomeni naturali. L'esistenza dei demoni è una questione di fede personale piuttosto che di prova empirica. Per coloro che seguono determinate tradizioni religiose, i demoni sono una realtà spirituale. Per la scienza e il pensiero scettico, i demoni non esistono come entità reali, ma le esperienze che le persone attribuiscono ai demoni possono spesso essere spiegate attraverso una comprensione scientifica dei fenomeni psicologici e fisici. I demoni e la scienza, è un argomento interessante che esplora il rapporto tra credenze soprannaturali e il metodo scientifico. La storia mostra un'evoluzione dalla spiegazione degli eventi attraverso il soprannaturale alla comprensione tramite la scienza. La credenza nei demoni Storia antica e medievale, in molte culture, i demoni erano visti come entità che causavano malattie, disastri naturali o comportamenti inspiegabili. Queste credenze erano comuni in società prive delle conoscenze scientifiche moderne. Influenza religiosa, le religioni, specialmente durante il Medioevo in Europa, attribuivano molte afflizioni umane e fenomeni naturali ai demoni. La Chiesa Cattolica, ad esempio, spesso esorcizzava gli, indemoniati. L'ascesa della scienza Rinascimento e Illuminismo, questi periodi segnano un cambio di paradigma. Pensatori come Galileo Galilei e Isaac Newton iniziarono a spiegare il mondo attraverso leggi naturali e non soprannaturali. Medicina moderna, la comprensione delle malattie passò dalle spiegazioni demoniache a quelle scientifiche con l'avvento della microbiologia. Malattie mentali e fisiche iniziarono a essere trattate con metodi scientifici piuttosto che con esorcismi. Demoni nella cultura moderna. Persistenza delle credenze, nonostante i progressi scientifici, alcune persone continuano a credere nei demoni, spesso per ragioni culturali o religiose. Questo è evidente in pratiche come gli esorcismi che ancora esistono in varie forme. Scienza e pseudoscienza Alcuni fenomeni pseudoscientifici cercano di integrare le credenze demoniache con spiegazioni apparentemente scientifiche, ma la comunità scientifica rigetta tali teorie per mancanza di prove empiriche. Esempi di scienza che spiega Demoni Epilepsia Una volta considerata possessione demoniaca, è ora compresa come una disfunzione neurologica. Disturbi mentali Condizioni come la schizofrenia, che potevano essere interpretate come possessione, sono oggi trattate con approcci psicologici e farmacologici. La scienza contro la superstizione Educazione e scetticismo La diffusione dell'educazione scientifica aiuta a ridurre la credenza nei demoni. Il pensiero critico e il metodo scientifico incoraggiano le persone a cercare spiegazioni naturali piuttosto che soprannaturali. L'evoluzione del pensiero umano dal soprannaturale al naturale rappresenta un'importante transizione nella storia della conoscenza. Oggi, la scienza continua a esplorare e spiegare fenomeni che una volta erano attribuiti a cause demoniache, promuovendo una comprensione più accurata del mondo che ci circonda. I demoni interiori Sono una metafora utilizzata per descrivere le lotte interne, i conflitti emotivi, psicologici o spirituali che una persona può affrontare. Questi demoni possono rappresentare una varietà di problemi e sfide, tra cui Paure e ansie, timori irrazionali o preoccupazioni che possono paralizzare una persona o impedirle di vivere serenamente. Sentimenti di colpa o vergogna, rimorsi per azioni passate o sensazioni di inadeguatezza e mancanza di valore. Dipendenze, comportamenti compulsivi legati a sostanze o attività che una persona trova difficile controllare. Depressione e tristezza, sentimenti persistenti di tristezza, disperazione o mancanza di interesse per la vita. Rabbia e risentimento, sentimenti intensi di rabbia o rancore verso se stessi o gli altri. Traumi passati, esperienze dolorose o traumatiche che continuano a influenzare negativamente il presente. Questi demoni possono essere il risultato di vari fattori, tra cui esperienze personali, traumi, influenze culturali, relazioni interpersonali e condizioni psicologiche. Affrontare e gestire questi demoni interiori spesso richiede un lavoro interiore significativo, che può includere la terapia, la meditazione, il supporto sociale e altre forme di autoaiuto e crescita personale. La metafora dei «demoni interiori» sottolinea la lotta continua e spesso invisibile che molte persone affrontano, e riconoscere la loro esistenza è un passo importante verso la guarigione e la crescita personale. Nel folklore, nella mitologia e nelle tradizioni religiose di diverse culture, esistono molteplici demoni considerati particolarmente pericolosi per vari motivi, tra cui il loro potere, la loro malvagità, o il loro impatto sull'umanità. Ecco alcuni dei demoni più pericolosi e le ragioni per cui sono temuti. Lucifero, noto anche come Satana o il diavolo, è una figura centrale nel cristianesimo, nell'ebraismo e nell'islam, e le sue caratteristiche e poteri variano a seconda delle tradizioni religiose e delle interpretazioni teologiche. Ecco una panoramica dei poteri comunemente attribuiti a Lucifero. Tentazione e inganno, Lucifero è noto per la sua capacità di tentare gli esseri umani, spingendoli a peccare e a deviare dalla retta via. Nel giardino dell'Eden, ha tentato Eva a mangiare il frutto proibito, portando al peccato originale. Questo potere di tentazione è visto come un mezzo per allontanare gli uomini dalla volontà di Dio e portarli verso il peccato e la dannazione. Manipolazione ed eccezione Lucifero è spesso descritto come un maestro dell'inganno, capace di presentarsi sotto varie forme e di distorcere la verità. La sua abilità di ingannare è usata per seminare confusione, discordia e menzogne tra gli esseri umani. Potere e autorità sui demoni Come principe dell'inferno, Lucifero ha autorità su legioni di demoni. È visto come il capo di tutte le entità infernali. Questo potere gli consente di orchestrare piani complessi per corrompere l'umanità e opporsi al regno di Dio. Conoscenza e saggezza corrotta Lucifero è spesso raffigurato come estremamente intelligente e sapiente, ma la sua conoscenza è usata per fini malvagi. Questa saggezza corrotta è usata per influenzare e corrompere gli esseri umani, offrendo loro potere e conoscenza proibita in cambio della loro anima. Forza e potere sovrannaturale Descrizione Sebbene decaduto, Lucifero mantiene poteri sovrannaturali, come la capacità di controllare gli elementi, la telecinesi e altre forme di potere magico. Impatto Questi poteri sono usati per eseguire i suoi piani e per combattere le forze divine. Accusatore Descrizione Nel libro di Giobbe, Satana è descritto come l'accusatore dei fratelli, che si presenta davanti a Dio per accusare gli esseri umani dei loro peccati. Impatto Questo ruolo di accusatore è parte della sua missione di condannare l'umanità e di dimostrare la sua indegnità davanti a Dio. Lucifero è dunque una figura complessa, rappresentante del male, della ribellione e della tentazione. Il suo potere è visto come una minaccia continua all'ordine divino e alla salvezza delle anime, rendendolo uno degli antagonisti più pericolosi e affascinanti nella mitologia religiosa. Belzebù, noto anche come Belzebab o Balzebab, è una figura prominente nella demonologia e nelle tradizioni religiose, principalmente nel cristianesimo, ebraismo e islam. Ecco una panoramica dettagliata su Belzebù Origini e identità Belzebù, Belzebab, Balzebab Etimologia, il nome Belzebù deriva dall'ebraico Baalzevuv che significa Signore delle Mosche. In alcune interpretazioni, è stato tradotto come Signore della Casa Alta. Mitologia, originariamente una divinità filistea, Balzebù era adorato nella città di Ekron. Col tempo, questa figura è stata demonizzata nelle tradizioni ebraiche e cristiane. Descrizioni e rappresentazioni Nella demonologia cristiana, Belzebù è spesso raffigurato come una figura mostruosa con ali di pipistrello, artigli, e un aspetto complessivamente demoniaco. Talvolta è anche rappresentato circondato da mosche. Caratteristiche Considerato uno dei principi dell'inferno, Belzebù è associato alla golosità, alla corruzione e al controllo delle legioni infernali. Storia e leggende Nel Nuovo Testamento, Belzebù è menzionato nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca. I farisei accusano Gesù di scacciare i demoni con l'aiuto di Belzebù, considerato il principe dei demoni. Demonologia Medievale, nei grimori e nei testi di demonologia medievale, Belzebù è uno dei sette principi dell'inferno, associato al peccato capitale della golosità. È anche considerato uno dei principali luogotenenti di Lucifero. Poteri e influenze Controllo delle mosche Il nome, Signore delle mosche, riflette il potere di Belzebù di controllare e comandare le mosche. Queste mosche sono spesso simboli di malattia, putrefazione e morte. Questo controllo rappresenta il suo dominio sulla decadenza e la corruzione. Golosità e corruzione Associato al peccato della golosità, Belzebù incarna l'eccesso e la mancanza di controllo. È visto come colui che induce le persone a indulgere nei piaceri materiali. La sua influenza porta alla decadenza morale e fisica degli individui. Autorità sui demoni Come principe dell'inferno, Belzebù ha autorità su molte legioni di demoni. È uno dei principali comandanti delle forze infernali. Questo potere gli consente di orchestrare piani complessi per corrompere e distruggere l'umanità. Inganno e manipolazione Belzebù è noto per la sua capacità di ingannare e manipolare, utilizzando la sua astuzia per corrompere gli esseri umani. Usa l'inganno per seminare discordia, confusioni e per attirare le persone verso il peccato. Influenza nella cultura popolare Letteratura e cinema, Belzebù appare in numerose opere letterarie, film e serie tv. È spesso raffigurato come un potente demone o il braccio destro di Satana. Esoterismo e occultismo Nei testi occultisti, Belzebù è spesso invocato nei rituali magici per il suo potere e la sua conoscenza infernale. Belzebù è una delle figure demoniache più note e temute nella tradizione religiosa e demonologica. Rappresenta la corruzione, la golosità e l'inganno, e la sua influenza si estende attraverso le culture e i secoli. La sua rappresentazione come principe dei demoni e la sua associazione con la decadenza morale lo rendono uno dei principali antagonisti nella lotta tra il bene e il male. Asmodeo è un demone noto principalmente nella demonologia e nelle tradizioni religiose ebraiche e cristiane. Origini e identità Nome, Asmodeo, Ashmedai o Asmodai Etimologia, l'origine precisa del nome non è chiara, ma potrebbe derivare dall'antico persiano, Aeshmadeva, che significa, demone della collera o, demone della distruzione. Mitologia, Asmodeo appare principalmente nella mitologia ebraica e cristiana come un demone potente associato alla lussuria e ad altri peccati capitali. Descrizioni e rappresentazioni Nella tradizione cristiana ebraica Asmodeo è spesso descritto come un demone con tre teste, una di toro, una di uomo e una di ariete, ali di pipistrello, zampe di gallo e la coda di un serpente. Tuttavia, le rappresentazioni variano È associato principalmente alla lussuria, ma anche alla vendetta, alla rabbia e alla distruzione. Storia e leggende Libro di Tobia Una delle storie più note su Asmodeo si trova nel libro di Tobia, parte della Bibbia ebraica e cattolica. Asmodeo è il demone che uccide i mariti di Sara, una giovane donna, nella notte delle nozze. Tobia, con l'aiuto dell'angelo Raffaele, riesce a scacciare Asmodeo usando il fumo di pesce bruciato. Leggende ebraiche In alcune leggende ebraiche, Asmodeo è descritto come un re dei demoni e talvolta come il marito di Lilith, la prima moglie di Adamo secondo alcune tradizioni ebraiche. Poteri e influenze Lussuria Asmodeo è principalmente associato alla lussuria e al desiderio sessuale. Corrompe gli esseri umani attraverso tentazioni sessuali. La sua influenza porta alla perversione, all'infedeltà e alla distruzione delle relazioni. Inganno e manipolazione Asmodeo è noto per la sua capacità di ingannare e manipolare gli esseri umani, sfruttando le loro debolezze. Utilizza il suo potere per seminare discordia e caos tra le persone. Forza sovrannaturale È spesso raffigurato con grande forza fisica e abilità magiche, in grado di infliggere malattie e causare disastri. Usa la sua forza per punire e terrorizzare le sue vittime. Conoscenza e saggezza oscura Come molti demoni, Asmodeo possiede una vasta conoscenza, inclusa la comprensione delle arti magiche e dei segreti nascosti. Questa conoscenza è usata per corrompere e distruggere coloro che cercano potere proibito. Influenza nella cultura popolare Letteratura e cinema Asmodeo appare in numerosi racconti, romanzi e film, spesso ritratto come un demone tentatore e ingannatore. Esoterismo e occultismo In molti grimori e testi di occultismo, Asmodeo è invocato come uno dei demoni principali con poteri specifici legati alla lussuria e alla corruzione. Asmodeo è una figura demoniaca complessa, associata principalmente alla lussuria e ad altri peccati capitali. La sua presenza nelle tradizioni religiose e nell'immaginario popolare lo rende uno dei demoni più noti e temuti nella demonologia. La sua influenza viene spesso utilizzata come simbolo del pericolo della tentazione e della corruzione morale. Lilith è una figura leggendaria presente in diverse tradizioni mitologiche, soprattutto nell'ebraismo, ma anche nella demonologia cristiana e in alcune tradizioni islamiche. Ecco una panoramica su Lilith. Origini e identità Nome, Lilith Etimologia L'origine precisa del nome non è chiara, ma potrebbe derivare dall'antico assiro babilonese Lilith, che significa «spirito notturno» o «vento della notte». Mitologia Lilith compare principalmente nella mitologia ebraica come una figura demoniaca, ma ha radici più antiche in altre culture mesopotamiche. Descrizioni e rappresentazioni Le rappresentazioni di Lilith variano notevolmente a seconda della tradizione. In alcune versioni è descritta come un demone alato con lunghi capelli neri, mentre in altre è raffigurata come una donna bellissima. Lilith è spesso associata alla notte, alla luna, alla fertilità e alla sessualità. È considerata una figura ribelle e indipendente. Storia e leggende Mito ebraico In alcune tradizioni ebraiche, Lilith è considerata la prima moglie di Adamo, creata insieme a lui dallo stesso fango. Si ribellò contro Adamo e contro Dio, rifiutando di essere sottomessa a lui, e fuggì dal giardino dell'Eden. Leggende Medioevali Nel Medioevo, Lilith divenne sempre più associata alla demonologia, vista come una succube che seduceva gli uomini nei loro sogni e causava morte improvvisa ai neonati. Altre tradizioni, Lilith appare anche in miti e leggende sumere, accadiche e assire, spesso come un demone notturno o come una figura associata alla fertilità e alla magia. Poteri e influenze Sessualità e fertilità Lilith è spesso associata alla sessualità e alla fertilità, sia come una divinità della fertilità che come un demone che porta alla lussuria e alla perdizione. La sua influenza è vista come un pericolo per la purezza e la moralità. Ribellione e indipendenza Lilith è considerata un'icona di ribellione e indipendenza, rifiutando di essere sottomessa a Adamo e rivendicando la sua autonomia. Questa figura ispira spesso movimenti femministi e di emancipazione. Maternità e protezione In alcune tradizioni, Lilith è invocata come protettrice delle donne in travaglio e dei neonati, fornendo protezione materna. Questo aspetto contrasta con l'immagine demoniaca, mostrando una dualità nella sua natura. Influenza nella cultura popolare Letteratura e cinema, Lilith appare in numerosi racconti, romanzi, film e serie tv, spesso come una figura seducente e misteriosa. Arte e musica, è stata ritratta in opere d'arte e menzionata in canzoni, rappresentando la sua continua presenza nell'immaginario collettivo. Lilith è una figura mitologica complessa e multiforme, che ha ispirato racconti, leggende e interpretazioni attraverso i secoli. La sua dualità come divinità della fertilità e demone della notte riflette la complessità delle concezioni umane della sessualità, della femminilità e della ribellione. Astaroth è un demone con una lunga storia nelle tradizioni demonologiche e nell'occultismo. Origini e identità Nome, Astaroth Etimologia Il nome potrebbe derivare dal dio Fenicio Astarte o dalla dea Cananea Astoret In demonologia, Astaroth è spesso associato al greco Aster, che significa stella, e Ot che significa signore, quindi signore delle stelle. Mitologia, Astaroth è una figura prominentemente presente nella demonologia occidentale, soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento. Descrizioni e rappresentazioni È spesso raffigurato come un demone femminile, maestro dell'inganno, con un volto angelico e ali da pavone o da angelo. In altre rappresentazioni, può apparire come un uomo o una creatura ibrida. Astaroth è considerato un grande duca dell'inferno, con vasta conoscenza delle arti magiche e delle scienze occulte. Storia e leggende Grimori medioevali Astaroth appare in diversi grimori medievali, come il Lemegeton e il Sedomonarchia Daemonum, dove è elencato come uno dei demoni principali dell'inferno, con un totale di 79 legioni al suo comando. Evocazioni e incantesimi In molti testi di magia cerimoniale, Astaroth è invocato per ottenere conoscenza, saggezza e potere. Viene spesso chiamato per rispondere a domande sulla divinazione o per aiutare nel perseguimento di ambizioni personali. Poteri e influenze Conoscenza e saggezza corrotta Astaroth è conosciuto per la sua vasta conoscenza delle arti magiche, delle scienze occulte e delle segrete meraviglie dell'universo. Questa conoscenza è spesso offerta agli stregoni e ai maghi che lo evocano in cambio di servitù e sacrifici. Inganno e seduzione Come maestro dell'inganno, Astaroth è abile nel manipolare e sedurre gli esseri umani, offrendo loro ricchezza, potere o amore in cambio delle loro anime. Questo potere viene spesso usato per tentare e corrompere coloro che cercano il suo aiuto. Manipolazione delle emozioni Astaroth può influenzare le emozioni e i desideri degli esseri umani, spingendoli verso comportamenti e azioni che possono portare alla loro rovina. Questa manipolazione può portare a decisioni irrazionali e autodistruttive. Influenza nella cultura popolare Letteratura e cinema Astaroth appare in numerose opere letterarie, film e serie tv, spesso come un potente demone o un antagonista oscuro. Videogiochi È anche una figura comune nei videogiochi di ruolo ed avventura, dove spesso è un boss finale o un personaggio chiave nella trama. Astaroth è una figura demoniaca potente e complessa, che incarna la tentazione, l'inganno e la corruzione. La sua influenza nella demonologia e nell'occultismo lo rende una figura importante nell'immaginario collettivo legato al soprannaturale e all'occulto. Grazie